Ciao ragazzi, io sono Marmi Dalmolin e io sono Jessica Mascarin e siamo gli educatori del progetto giovani di Azzano Decimo. Interrompiamo la vostra lezione con un breve video per raccontarvi il CCR. Ma che cos'è il CCR Marvin? Il CCR è il Consiglio Comunale dei Ragazzi ed è un progetto fortemente avvoluto sia dalla vostra scuola che dal sindaco di Azzano Decimo e che da tutta quanta l'organizzazione comunale per aiutarti a crescere e diventare un buon cittadino, attento a quello che è il bene di tutti. E attraverso questa esperienza avrai la possibilità di sperimentare diverse cose tra cui come si fa una scelta in modo democratico, come ci si confronta, il senso di appartenenza alla tua comunità, la ricerca di soluzioni che non soddisfino le esigenze di uno ma quelle di tutti e come essere protagonista e promotore delle tue idee. Ogni classe quindi avrà il suo rappresentante eletto che comparrà appunto il CCR il quale a sua volta eleggerà il sindaco e il consigliere arziano. Questo in velocità cos'è e che cosa fa il CCR? Quest'anno solamente voi della classe prima farete le lezioni. Infatti i vostri colleghi di seconda e di terza, già eletti lo scorso anno ma causa e poco operato, per ovvie ragioni, saranno eletti automaticamente. Per decidere se fa per te il ruolo del rappresentante o del consigliere, prova a farti queste domande. Mi piacerebbe essere portavoce dei desideri delle idee e dei punti di vista dei ragazzi della mia età? O a cuore tematiche come l'ambiente, la solidarietà, il benessere dei miei compagni e della scuola? Mi è possibile essere presente a tutti gli incontri previsti e soprattutto ne ho parlato con i miei genitori? Se hai deciso di candidarti, pensa ad almeno tre idee da esporre alla tua classe il giorno delle lezioni, idee alle quali tu tieni particolarmente e che secondo te potrebbero essere migliorative per la tua scuola. Grazie Marvin. Grazie a te Jessica e grazie a lei prof per averci permesso dimostrare questo video. Ciao ragazzi, buona giornata! A voi, ciao ciao! Ciao! Hai deciso di candidarti? No. ci ringraziamo vicenda alla fine dai ci sta